Consumi elettrici in calo in Italia. A luglio, secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, la domanda di elettricità nel nostro paese è stata pari a 30,1 miliardi di kilowattora, registrando una diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. In flessione anche i consumi industriali. L'indice IMCEI, che riguarda circa mille imprese e energivore, registra un meno 1,2% rispetto a luglio dello scorso anno. Positiva la variazione dei comparti dei mezzi di trasporto, del cemento, calce e gesso, degli alimentari e della siderurgia. Stabili le ceramiche e vetrarie. In flessione tutti gli altri settori, in particolare la cartaria e la chimica. In termini congiunturali, il valore della richiesta elettrica risulta in crescita, più 1,2% rispetto a giugno 2023. Nei primi sette mesi dell'anno, la richiesta accumulata di energia elettrica in Italia risulta in calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Variazione negativa anche dell'indice IMCEI, meno 5,7%.